Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika Benvenuti in un altro video What's in my bag? Spero di averlo detto giusto Insomma, cosa c'è nella mia borsa? Diciamolo in italiano che è meglio Nika perché fai casini se no tutto andare Allora, la mia borsa innanzitutto è questa Che è nuova, la sto usando da due settimane più o meno Sì L'ho pagata 23,95€ in un negozietto qua dalle mie parti E' fatta così C'ha una zip qua dietro E vi faccio vedere il fuori Che Vi faccio vedere cosa contiene Ho detto, stavo dicendo, qua non ho messo niente Invece qualcosa ho messo Quando andiamo a berci il caffè di mio marito Che magari andiamo al centro commerciale Sapete che dopo sul bicchierino lì Sul piattino del caffè Tanti gli mettono il biscottino E io me li porto via Loro li danno C'è chi mette la caramella che mette il biscottino Ho detto dopo Li tolgo perché Ho detto li lascio a casa Dopo invece non mi sono più ricordata Erano dentro Se no fa finire che stanno dentro un anno Meno male Tolti Poi Ha queste due catene qua così Che non so se è per tenere Non penso che è per tenere la tracolla Penso che sia per bellezza Non lo so Infatti quando vado in giro Si sente sempre E mi piace E poi vabbè C'ha la tracolla Laterale Così I due manici Che potete metterla Così E poi Ha una sola Una sola zip qua in mezzo Che si apre così Dove C'è dentro il mondo Adesso andiamo a fare vedere Dove c'ha una taschina qua Un'altra piccolina qua Che vi faccio subito vedere cosa c'è dentro Le donne lo sanno Le donne lo sanno E lo mettiamo via subito Poi Qui Che c'è proprio questo scomparto Tengo Una penna Quadernino Quella n di mica Si sa mai che ci bisogna di appunti Quando vai fare la spesa Quando vai fare qualcosa Non lo so Il mio qua Dove c'è il mio badge del lavoro E poi vi faccio vedere Tutta la maria Poi ci sono altre due taschine qua Queste qua piccoline Dove in una c'ho questa Se va ancora Si la pila Questa di Tiger Della collezione Unicorni È una vita Che ce l'ho Nelle borse Le cambio Le metto sempre Di qui niente E adesso andiamo a vedere Cellulare Con la custodia Unicornosa Poi Ho Cicche Inevitabilmente Sempre le ho Poi Ho Questa Borsettina Che sarà Quattro anni Che la uso Non si distrugge Di acqua e sapone Non lo so da quant'è Che la stiamo usando Amore Quando andiamo a fare le spese Di più Di più Ce l'ho sempre dentro Anche se noi in macchina Abbiamo le borse Quelle più grandi Quando andiamo a fare la spesa Questa qua è sempre dentro Per le piccole spese Sempre comodo Una borsina Ci vuole sempre Nella borsa Poi Aspettatene Fazzoletti E poi 5 centesimi Così volanti Che dopo andiamo a mettere via E poi Partiamo con Vari Borsellini Borselletti Pochettine Pochettette Questo E' semplicissimo Pieno di Tessere Da Sephora Douglas Essilunga Ocean E poi Cos'è che c'è Di tutto Di più Penny Insomma Tutte quelle Dei supermercati Penso che ce le abbiate anche voi Iper media world Iper media world Di tutto e di più Decathlon Carrefour Di tutto e di più Abbiamo di tutto e di più E andiamo col mio portafoglio Che è questo Unicornosa Questo qua È una collaborazione Banggood Banggood Dopo vabbè Ho tutte le mie tessere sanitarie I miei documenti La mia patente Perché ho la patente Perché c'è stato qualcuno Ma tu mica guidi Sì guido E sono anche brava Per affrontarmene Sì è vero Ma lo dice anche mio marito Che è un uomo strano E faccio guidare sempre lei Infatti lui mi fa sempre guidare E me anche lui guida Però dice A me piace guidare A me no Stranamente Ma vero A me piace guidare Che fortunato Quando andiamo insieme Infatti Se sono pochi uomini fortunati Forse magari Ditemi nei commenti Se qualcuno Anche di voi donne Piace guidare A me piace Ultimamente Vedo molte donne La guida È vero Però Abbiamo contato Anche quando andiamo Nei parcheggi Tipo il centro commerciale Così Vediamo sempre che Le coppie Quando tornano in macchina Guida sempre la donna La guida A me piace Mi piace tantissimo guidare Non so come mai Non lo so Forse magari Perché non lo faccio Tutti i giorni Lavorando qua vicino A casa Vado a piedi al lavoro Magari per quello Se userei la macchina Tutti i giorni Allora magari Forse direi Io piuttosto Vado a piedi Andiamo a corsa Ormai amore Andiamo a corsa Noi Poi Ho ancora Due belle cosine Che sono Una L'ultima L'ultima bella Chicca Ve la lascio dopo Perché è meravigliosa L'ho appena comprata Ma l'ho messa dentro La mia pochettina Questa è unicornosa Anche questa Presa con una collaborazione Ma è stupenda E c'ho dentro Le solite cosine Vabbè Specchietto Che non vi apro Perché vi sparaplesso In faccia tutto E niente Quello Unicorni Poi ho due Buracacao Uno di Balea al cocco E un labello Classico Poi ho la cremina Questa qua Da giorno La tengo dentro Se magari Ho bisogno Un pochino Perché ho avendo La pelle secca Quando sei in giro Poi ho dentro Il disinfettante Che è questo Non mi manca mai Ce l'ho seminato Da tutta la casa Questi disinfettanti Da tutte le parti E poi la cremina Delle mani Questa qua Di mercy handy E questa è la mia poscettina Del necessario Avevo anche i cerotti Però li ho dovuti togliere Perché dopo un po' Che ce li è dentro Si risovinano Dovrò metterne dentro Un po' Un paio E venenza Si sa mai Non è che devo tagliarmi Farmi del male Per carità E poi L'ultima cosa Ma non da meno È il mio portamonetino E sono talmente orgogliosa Di farvelo vedere Perché sono stata da Tiger Però ho preso Un po' di Bursa sorpresa E allora non vi ho fatto LOL Ma c'era lì anche questo Questo non lo ho potuto Non prenderlo Dovevo prenderlo 3 euro C'erano anche di altri colori Azzurino e verde Mi pare Si Ma io lo potevo prenderlo Rosa È siliconoso 3 euro Infatti per quello che vi ho detto Dopo li metto dentro Perché non ci sono tanti soldini Allora aggiungiamo 5 centesimi Perché qua c'è sempre le monetine No ma Io 41 anni Me ne frego altamente Mi piaccio così È bello la cassa Le serve qualche monetina Purti lì fuori Questa meraviglia Ma sì Così 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 la commessa Magari la cassiera che ti guarda Dice ma questa qua Quanti anni avrà Magari coi miei figli in parte Capito Caspiterina È mamma di due Due adolescenti delle medie Perché ormai sono ragazzini Eh sì C'ho questo E me ne vanto Sono strafelice È pucciosissimo Sarebbe bella questa Foto Comunque niente Questo è quello che c'è Nella mia borsa Spero di avergli fatto vedere tutto Qua vi ho fatto vedere Il mio quadernetto Quadernino E basta Dopo magari Ci butterò dentro Ancora qualcosa Perché ogni tanto Capita che è Però Quello che ho sempre dentro Il necessario È sempre questo Il mio kit qua Poscette Le carte Dopo quando andiamo in giro Metto anche il portafoglio Di mio marito Perché lui Non è uno che lo tiene in tasca Non ce l'ho mai Non ha mai avuto il vizio Di tenere il portafoglio Nella tasca dietro Ma è meglio così Perché Per me è pericoloso Poi tanti È una tradizione È una cosa che ormai Esiste da anni Da quando ero piccolo Mio papà Che io c'ho 41 anni È 41 anni Che lo vedo Col portafoglio in tasca E andrà avanti Sempre così Perché ha un'abitudine E idem Anche altre persone Che io vedo anche sul lavoro Ce le hanno tutte in tasca Invece mio marito Meno male Che non ha quell'abitudine Perché mi fa paura No io non lo porto Proprio in giro il portafoglio Quando andiamo in giro Insieme lo metto io nella borsa Però vabbè Dopo vabbè Lui c'ha il suo borsino Però non lo mette mai dentro Metto la patente Mette la patente Senza portafoglio Lì perché comunque sia Quando andiamo a prendere qualcosa A fare le spese Perché siamo sempre insieme Perciò Non c'è problema Tu papà anche lui ce l'ha Sai che non ho notato Tu papà invece no Vedi va abitudini No tu papà forse Nella giacca Perché sai Sono abitudini Da No non ce l'ha mai in tasca Mette nella giacca Però tanti vedo appunto Che hanno Lui non ha il vizio Però lo tengo io E niente Stavo dicendo Questa è la mia borsa E cosa c'è Nella borsa della Nica Spero di avervi tenuto compagnia In questo Altro video E niente Vi do appuntamento appunto Al prossimo Se non siete Iscritti al canale Iscrivetevi Attivate la campanellina Così vi arrivano le notifiche Dei prossimi video In compagnia della vostra Nica Bacioni Ciao